Qual è il corso di Scenari di esposizione? Sto partecipando ad un corso molto interessante qui in Ski Lab che riguarda argomenti molto attuali e molto caldi in questo periodo, quali il CLP, rifiuti, miscele, sostanze, classificazione di sostanze e rifiuti. La cosa interessante è che sono coinvolti i docenti provenienti dal mondo tecnico, dal mondo normativo, per cui abbiamo sfruttato la parte in aula e persino la parte durante il franzo per esporre problematiche di questi argomenti adattati alle nostre diverse realtà.